guarda che ammazza di margherita quasi quasi la sfoglio mamma, non mamma, mamma, non mamma, mamma, non mamma mamma mia apredora scusi Sam io non potevo immaginare che lei mi amasse cioè che non mi amasse insomma sono confuso ecco scommetto che lei viene da Bellignano, vero? ma come? non si ricorda di me? sono quello dell'affare della carne carne? quello affare della carne è in scatola, cerca ormica ma certo, di questi tempi non è molto facile incontrare dei signori come lei beh, ma come? allora vuol dire che stamattina, dopo tutto, ha capito che si trattava di...